un fulmine ha preso la palmata e l'ha fatta prendere a sfogo impressionante impressionante guarda chi c'è c'è mentre che parlava con sebastiano telefono un fulmine un fulmine allora il fiume sta andando bene scende bene ma purtroppo ha sparato dove c'è il tribunale quindi penso che scenderà sulla via roma abbondantemente